Dal Vangelo secondo Giovanni Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo, chi sei tu? Egli confessò e non negò e confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, che cosa dunque sei Elia? Rispose, non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose, no. Gli dissero dunque, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero, perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo con acqua, ma sta in mezzo a voi uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del Sandaro. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Dove stava battezzando Giovanni? Dall'altra parte di questo fiume, in quel luogo che presumibilmente gli israeliti barcarono per entrare nella terra promessa. Noi sappiamo che quando Israele entra nella terra promessa, entra nella porzione di terra che gli viene assegnata, ogni tribù assume, per secondo il tracciato del Pentateuco, assume una identità da Dio in relazione alla terra che abita, tant'è che quella porzione porta il nome della tribù che vi entra. Ma il Giordano è anche il momento in cui finalmente Israele ha smesso di avere paura, paura di che? Paura dei giganti. Avevano fatto sei mesi di viaggio lungo il deserto per arrivare in questa terra che Dio gli aveva promesso, erano stati 39 anni e mezzo con la paura di entrare perché vi potevano trovare nazioni straniere che non li avrebbero accolti, finalmente con Giosuè decidono di fidarsi di Dio e il Giordano si ferma e l'arca con i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo finalmente può entrare alla conquista di Gerico e poi di tutta la terra di Israele. Dunque è un momento questo al di là del Giordano che ricorda loro il grande passaggio che Dio gli ha fatto fare, un passaggio che viene dalla paura alla proprietà della terra, dal non sapersi nessuno in mezzo ai popoli all'abitare un luogo che può darti un nome, che può darti un'identità e che un'identità che ti metta in relazione anche con gli altri popoli. Dunque è una grande promessa e finalmente uno scioglimento. La cosa interessante è che proprio quelli che avrebbero dovuto capire questi fatti, cioè questi che avevano diciamo così la torà sulle dita, che conoscevano tutte le parole del Signore così come egli gliel'aveva date, proprio loro non capiscono, non lo riconoscono e quando vedono Giovanni fare queste cose gli dicono ma te con quale autorità le fai? Ma chi sei? Sei Elia? Sei un profeta? Sei il profeta per eccellenza? Perché fai questo? Si dimenticano della parola che Dio gli aveva dato per capirlo. E Giovanni lo dice chiaramente io non sono il Cristo, non sono Elia, non sono quello che è venuto a chiudere la storia, io faccio da passaggio. Come quel popolo ebbe Giosuè per passare il fiume Giordano e riprendersi la terra, così io sto qua a dire al popolo che se si pente dai suoi peccati, cioè se ritorna alla fiducia e abbandona la paura, troverà un Dio che ha il desiderio di dargli un nome, di dargli un'identità e di rimetterlo in piedi. Come dire lo volete fare voi questo? Volete passare il mare? Volete passare il fiume? Volete entrare in possesso della vostra identità una volta per tutte? E quando reiterano questa domanda Giovanni il Battista risponde citando Isaia, io sono voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore, un versetto contenuto nel grande capitolo 40 di Isaia, il capitolo della consolazione di Gerusalemme, quel capitolo in cui Dio comincia a parlare dicendo, l'abbiamo visto forse l'altra domenica, consolate il mio popolo perché ecco il nostro Dio viene a salvarci. Questo allora è il fatto che la Chiesa oggi ci mette davanti raccomandandoci come diceva la prima lettera ai Tessalonicesi di rallegrarci, di gioire nel Signore, di stare lieti e di pregare incessantemente perché il tempo si è fatto breve. Quale tempo? Quello dell'attesa nella quale ci siamo preparati anche quest'anno per aspettare il Natale. E adesso andiamo proprio al centro di tutta questa promessa. E sapete ci vuole poco a dire che noi abbiamo avuto delle promesse, io ti dico che ce le hai avute nel battesimo, poi ti domando quali sono e tu non rispondi. Vero? Non le sai. Non ti sei dato pena manco di andarla a cercare. È come uno che abbia ricevuto una, mantiamolo meglio, come uno che abbia vinto all'enalotto e la schedina l'ha buttata. Come l'hai buttata? Non lo so dove l'ho messa. Ma come non lo sai? Hai vinto, che ne so, una cifra esorbitante. Non lo so. Che diresti di lui? Ma di quella parola che può aprirti la vita eterna, tu hai fatto uguale. Ancora devi decidere se crederci o no. Allora qua arriva la parola della consolazione. Siccome tu sei indeciso se crederci o no, siccome tu forse ancora non la conosci, allora qua questa parola oggi ti dice di rallegrarti, di stare lieto nel Signore. Sai perché? Perché dopo che Isaia ha esposto nella prima lettura la grandezza di questa missione che lo Spirito Santo è venuto a dare al profeta per eccellenza, cioè al Messia, dice alla fine come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Vuoi sapere che vuol dire questo che ti riguarda? Vuol dire che tu puoi decidere quello che vuoi, tu puoi decidere di rimanere nella paura dove stavi. Tu puoi essere ancora incerto e ignaro, ma il Signore ha fatto una promessa e questa sta nella tua vita come un seme in un giardino irrigato. Cosa fa un seme in un giardino irrigato? Cresce e basta, cresce e porta frutto al tempo opportuno. Dunque quel seme che è stato posto in te porterà frutto al tempo opportuno, questo tempo lo conosce il Signore, ma ti chiede oggi di rallegrarti perché pure tu te ne puoi accorgere. Anche tu ti puoi svegliare e dire allora forse veramente la mia steppa, la mia terra deserta, arida, senza acqua, come recita il Salmo 62, anche questa terra è chiamata a germogliare. Chi la farà germogliare? Dio, che manda la sua parola come la pioggia e la neve, che scendono dal cielo e non ritornano a lui senza aver fecondato e rifatto germogliare la terra. E quella parola non è una parola qualsiasi, non è una pioggia passeggera, quella parola è il verbo che si fa a carne. Allora per chiudere questo lungo discorso io ti voglio ricordare questo. Tu non ci credi che le parole diventano carne, pensi che valgono poco le parole, più uno le dice e peggio è. Ma c'è una parola che invece diventerà carne, che tu lo voglia o no. Se tu lo vuoi e vi aderisci sarà carne e storia per la tua salvezza, se tu la ignori sarà carne lo stesso, ti convincerà di lasciarti salvare, ma la libertà rimarrà ancora una volta a te. Stavolta in questo avvento lasciati convincere che questo è vero. In questo avvento decidi che noi possiamo ancora cambiare l'esito della nostra esistenza e il corso della storia attraverso la fede che esercitiamo in questa promessa che Dio ha fatto. E rianimati anche, fatti venire il coraggio di accompagnare questo seme fino al suo germoglio, fino alla fine. Stanno aspettando i cieli, stanno aspettando gli angeli, stanno aspettando i poveri, stanno aspettando tutti i lontani, che tu diga, eccomi, io sono la serva del Signore, si faccia di me, proprio secondo la tua parola. Siano dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai aperto a noi una strada nel deserto, perché imparassimo cosa c'era nel nostro cuore, quali pensieri vi abitavano e come avremmo seguito la tua parola fino al suo nascere in mezzo a noi. Ora che ci avviciniamo a questo giorno, a questa notte luminosa, tu aiutaci a credere che tutto quello che tu ci hai promesso veramente lo realizzerai. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che interpretino questo tempo che viene come la vera opportunità dell'incarnazione del tuo Verbo eterno. Dimentichi del passato e protesi verso il futuro. Non si lasci minacciare la tua Chiesa, dalle molte discordie, dalle molte difficoltà al suo interno e anche all'esterno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per aver perso tempo, tempo prezioso della nostra vita, quel tempo che tu ci avevi dato per conoscerti, semmai arrivassimo a incontrarti, andando come attentoni, scoprendo che tu non sei lontano da ciascuno di noi. Fa che sia questo il tempo della nostra redenzione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono in difficoltà, per quelli che stanno lottando contro la malattia, per quelli che temono la morte, per quelli che hanno lasciato questo mondo e che abbiamo amato. Dacci la possibilità un giorno di incontrarci di nuovo, per glorificare il tuo nome. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi i tuoi figli. Liberali dal pensiero cattivo. Sostienili nella prova. Dilata il loro cuore, perché accolgano la tua promessa e la vedano germogliare. Guarisceli da ogni male e da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amo.